Uno degli esempi più lampanti di come il lavoro e la professionalità portino frutto è Matteo Darmian. Prima di arrivare a vestire la maglia della nazionale maggiore infatti il 24enne terzino ha dovuto fare la necessaria gavetta difendendo i colori azzurri in tutte le selezioni giovanili dall'under 17 all'under 21. Cesare Prandelli lo premia nel 2014 convocandolo per gli stage di marzo ed aprile. Per il debutto in maglia azzurra tuttavia Darmian deve attendere il mese di maggio. L'esterno scende in campo per la prima volta con l'Italia nell'amichevole disputata a Londra contro l'Irlanda ad appena 12 giorni dal calcio d'inizio del mondiale brasiliano. Una gara grazie alla quale Darmian riesce a strappare la conferma tra i convocati per la FIFA World Cup 2014 dove arriva da outsider con tanta voglia di dimostrare il suo valore. Sous-titrage Société Radio-Canada